ciao a tutti nel video di oggi un nuovo scopriamo le creazioni in resina era da un po che non ne portavo uno sul canale perché sono sempre stato a milano quindi ora che sono tornato a dischi ho avuto un po di tempo e ho colato qualche creazione in resina tutti quelli che vedete qui oggi sono tutti gli stampini che ho acquistato dalla svendita di erika kawaii sono tutti stampini usati di erika kawaii io avevo preso tre scoop di stampi e queste sono le creazioni che ho creato con il materiale acquistato da erika quindi spero che vi piacciano nel caso mettete un like e scrivetemi nei commenti facendomi sapere cosa ne pensate di queste creazioni qualcuna forse la dovremo poi ultimare insieme al termine del video ne sono un po iniziere da quelle un po più semplici ad esempio questo fiocchetto eccolo allora ho utilizzato tutti gli stampini tranne due però la maggior parte l'ho utilizzata allora il primo è questo fiocchetto qui di neve all'interno vedete ci stanno questi glitter spero che si notino ok ecco qui la prima creazione molto semplice ma carina spero che vi piaccia poi ho realizzato queste due lette con dei pigmenti fluo della reschimica eccoli ho utilizzato per questa creazione il giallo e il viola sono questi qui yellow green e violet della reschimica poi in altre ho utilizzato anche questo qui che è l'orange red allora eccole anche queste anche queste sono molto semplici e sono venute così questo lo stampino e queste sono le due ali quindi con quei due pigmenti all'interno carine eccole poi altra creazione è questa stellina andiamola ad aprire ed è così quindi era un avanzo di argento all'interno all'interno del quale poi ho inserito del blu e questo è il risultato eccola molto semplice niente di emozionante poi base cammeo con questo sfondo diciamo un pigmento sarà della resim pro e poi sul davanti avevo spennellato un pigmento chameleon questo è lo stampo e questa è la creazione eccola qui sì il pigmento si vede carina molto semplice ma era come me l'aspettavo poi primo joystick ho fatto questo sfondo verde pastello questo era lo stampino e il diciamo i pulsanti del joystick li ho fatti col nero è uno stampino un po opaco quindi è non molto preciso diciamo come vedete proverò magari all'uscitarlo per vedere se migliora un po i colori però mi piacciono poi fiocchetto di aliexpress che però io non avevo e questo qui che ho fatto con blu e tanti tanti glitter spero che si notino ci sono varie tipologie di glitter sul celeste e il rosa eccolo e questo è il fiocchetto poi andiamo con il boccino d'oro dove c'è questo che è più semplice aspettate che non mette a fuoco allora questo è solo composto dalle ali e il boccino così cioè scomposto scusate ce la posso fare eccolo e invece poi ho fatto l'altra versione diciamo unita ed è questo era lo stampino era uno dei primi stampini secondo me di gea e questa è la creazione del boccino d'oro molto carino le ali le ho fatte col traslucido solo con del pigmento all'interno lo sparkle white tipo della reschimica e questo poi invece è il pigmento oro che avevo utilizzato per il boccino molto bella mi piace poi passiamo a questo mega cristallo eccolo non so se si sente il rumore ok allora questo era lo stampo e ho utilizzato due tipologie di resina diverse un blu e un celeste e questo è il risultato della creazione cristallosa dai non è venuta male anche le punte sono venute abbastanza bene solo in qualcuna c'è qualche bolla mi piace eccolo fatemi sapere cosa ne pensate si ho usato un po' di blu in questo scopriamo cioè queste tre creazioni sono tutti blu diversi però si blu o celeste ok poi passiamo a questo orsetto è uno stampino di plastica ok vediamo ok allora questo è lo stampino e questa è la creazione quindi ho provato a colorare sempre con dei dettagli di resina gli occhietti il nasino il musetto e il fiocco spero che si notino vedete sono tutti colori diversi ed è resina goccioline di resina per ogni dettaglio e devo dire che questa creazione mi piace molto come è venuta è uno stampino che non ho visto tanto usare ad erica però è molto bello e lo sfondo l'ho fatto con questo rosa molto tenue sempre con quel pigmento dell'area schimica all'interno ve lo recupero un attimo così ve lo faccio vedere eccolo l'ultra sparkle white è davvero un pigmento che vi consiglio e dà un effetto molto bello nella resina e un altro bello che ho utilizzato anche per questo video il super gold non è una sponsorizzazione dell'area schimica ma sono prodotti con cui mi trovo bene quindi se siete interessati all'interno di molte creazioni non sono glitter ma sono questi pigmenti poi passiamo a questo qui allora vediamo questa push in come è venuta anche qui ho fatto vari strati allora ah cavolo qui ho sbordato troppo col primo colore quindi la mia idea era di fare questo primo strato con questo grigio più chiaro qua ci avevo provato a fare le guanciotte e i dettagli qui col nero e poi fare il bordo diciamo vedete questo qui rialzato con un grigio più scuro e purtroppo è venuta così ma magari posso provare a migliorarla dipingendo questo bordino comunque ora vediamo comunque questa è la creazione poteva venire meglio poi scheletro e anche qui c'è del blu questo è un pigmento blu che ho spennellato nello stampo è uno stampo un po' rovinatino e poi qui i bordi li avevo fatti con il pigmento argento e questo è il risultato magari qui alcuni dettagli provo a colorarli e la creazione però devo dire è particolare carina poi Totoro anche qui pigmento argentato ho deciso di farlo così e avevo già altri stampini di Totoro ma questo mi mancava e vediamo un po' com'è venuto allora va rifilato perché è molto tagliente però è carino qua vanno fatti i particolari con il nero il nasino e gli occhietti e mi piace bello stampo e anche la creazione mi piace molto eccola poi passiamo a questo cuore Nese anche nei commenti mi aveva spiegato che rappresentava Harley Quinn con Joker all'inizio io non l'avevo capito e ho provato a fare non so se dai pigmenti qui si nota c'è un pigmento col viole e uno col verde per i colori un po' di Joker e ho provato ad utilizzare questi due pigmenti nella creazione questa è lo stampo e questa è la creazione quindi sulla parte di Harley Quinn ho utilizzato questo verde mentre sulla parte di Joker il viola e devo dire che mi piace mi piace molto com'è venuta fatemi sapere cosa ne pensate ma bella anche i dettagli si vedono bene anche senza colorarli eccolo poi cavalluccio marino questo è uno stampino di Gea ho provato a fare due tonalità di lilla eccole si sono sfumate un po' male sul davanti però questo è il risultato della creazione un cavalluccio marino molto carino e questo era lo stampino vi ricordo questi sono tutti i stampini che erano di Erika Kawaii e io li ho comprati dal da una svendita cioè da una non una svendita si li ha messi in vendita sul suo shop nella modalità di acquisto con Scoop e ho preso tre Scoop e questi sono diciamo gli stampini dei tre Scoop che sto testando per la prima volta in questo video quindi poi altro stampino e questo qui con queste due conchigliette che ho fatto una con rosa e una con questo pigmento che era un avanzo di questo qui quindi allora e questo è il risultato di queste due mini conchigliette allora e infine c'è questa sirena vedete già i colori che ho utilizzato quindi rosso per i capelli un pigmento rosa per il corpo e la coda con il verde questo è lo stampino e questa è la creazione creazione allora mi piace allora aspettate provo a mettervela meglio a fuoco eccola qui magari posso ultimarla colorando qui le stelline e questi pontini con un colore più di impatto però creazione molto carina secondo me eccola eccola poi abbiamo questo che è un cammeo che volevo da tanto e non avevo ancora mai preso allora eccolo qui e l'ho colato in questo modo qui va un po' rifilato allora ho fatto un primo strato sul bordo con questi glitter e poi ho colato uno strato con questo giallo molto tenue e all'interno il pigmento che vi ho fatto vedere prima questo qui ultra sparkle white vedete questo è il risultato fatemi sapere cosa ne pensate qua va un attimo rifilata tutta ok si poi joystick joystick allora qui ho utilizzato questi tre pigmenti dell'area schimica e ho fatto poi uno sfondo con il bianco e vediamo com'è venuto ecco questo è lo stampino e questo è il risultato della creazione che va un attimo diciamo ultimata con il cuoricino e i dettagli questi qui dei tasti provo a colorarli però mi piace eccola e ultima creazione del video che è la mia preferita come stampino era uno stampino che mi piaceva sempre vedere nei video di Erika cavolo è volata allora questo è lo stampino e questo qui di mini e l'ho realizzato con fiocchetto rosso super glitterato e invece ho fatto mini con questo giallo e all'interno sia il super gold che l'ultra sparkle white questi due pigmenti e devo dire che mi piace molto sicuramente è la mia preferita di questo video poi vi dirò mi piace molto anche il cuore di Harley Quinn e di Joker come è venuto e al terzo posto mi piace la sirenetta eccolo qui menzione d'onore all'orsetto che è uno stampino molto carino diciamo queste sono le mie creazioni preferite di questo video fatemi sapere nei commenti quali sono le vostre e ci vediamo poi al prossimo video ciao eccoci scusate io vi avevo già salutato ma mi sono dimenticato di mostrarvi le creazioni ultimate quindi ho utilizzato tutti i stampini di Gea e sono andato a rifilare e a sistemare alcune creazioni ad esempio questo teschetto sono andato a ripassare i dettagli vedete degli occhi e del nasino con questo colore qui argentato per abbinarlo al bordino e devo dire mi piace secondo me molto carina poi ho sistemato anche qui sempre con questo colore i bordi del gattino vi ricordate qui era un po' sbavato il primo colore e l'ho rifilato così modificato in questo modo e mi piace poi ho molto semplice qui ho fatto solo gli occhietti e il nasino col nero qui in questa sagoma di totoro qui ho spennellato un po' di bianco sulla testa del cavalluccio marino e le pinne e mi piace così sembra diviso in tre ed è carino secondo me e poi joystick ho fatto qui col giallo qui con l'arancio non so forse sembra rosso ma è arancio e qui col turchese con il viola e questo è il joystick terminato fatto così e ultima creazione questa qui con Harley Quinn e Joker ho fatto i dettagli con il bianco ero indeciso se colorarla anche qui di bianco al momento l'ho lasciata verde fatemi sapere se secondo voi devo andare di bianco anche qui spero che il video vi sia piaciuto e alla prossima ciao 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 Grazie a tutti.